Acquisita la cassa integrazione per altri sei mesi, fino a 4 maggio 2019, gli operai della GAM guardano ora con preoccupazione alla ripresa dell'attività produttiva ancora incerta. In particolare, secondo molti lavoratori, Avicola Vicentina, che ha acquisito la GAM, non sarebbe in grado di garantire l'occupazione ai 260 dipendenti. A rincarare la dose ci ha pensato il responsabile dell'associazione area amatese, Alfonso Mainelli, da sempre critico sull'operazione GAM e sulla cessione della filiera Avicola Vicentina. Agricola Vicentina è una società di responsabilità limitata con un capitale di 50 mila euro. Al bilancio del 2017 ha fatto registrare una perdita di esercizio per 1 milione e 119 mila euro e ha una disponibilità di cassa di poco meno di 23 mila euro. Bisogna tenere presente che al tavolo ministeriale siede Agricola Vicentina e non Amadori, come si crede qui nel Molise. Quindi siede una società che non ha quel merito bancario, quelle referenze finanziarie, tale da giustificare le trattative per contratti di parecchi milioni di euro. Quindi la SPA Amadori nulla c'entra con Agricola Vicentina? Tecnicamente e giuridicamente Amadori è solo un investitore, è il socio unico di Agricola Vicentina. Però se si verifica il bilancio dell'SRL di Agricola Vicentina si vede che loro lo dichiarano, così come prevede la legge per la pubblicità ai terzi, dichiarano che Amadori non ha alcuna ingerenza nell'amministrazione della società. Amadori avrebbe dovuto dire e dovrebbe dire se intende far fronte, far da spalla finanziaria ad Agricola Vicentina. Potrebbe esserci la volontà di aver acquisito la GAM per chiuderla e per eliminare un concorrente scomodo? Fino ad oggi il risultato questo è stato. Amadori del resto ha investito in Abruzzo e in Puglia con il pollo biologico. Per quello che emerge dagli atti non c'è una volontà di partecipare alla ripresa della fila agricola molisana.